Ciao a tutti, mi chiamo Emanuele Pallini e ho frequentato l'anno scorso il Master in Marketing and Export Management presso la SSML di Pisa. Attualmente sono responsabile marketing di una azienda qui alla Spezia, occupa della fabbricazione di macchinari industriali, quali compressori, kit, ricambi. Devo dire che il Master mi ha aiutato tantissimo nel trovare questo lavoro, le conoscenze che ho sviluppato nel Master l'anno scorso sono circa l'80-85% del lavoro che svolgo. Io fino a un anno fa non avevo idea di cosa fosse un diagramma di Gantt, ma lavorando ho scoperto che serve tantissimo. Le prime volte le ho utilizzato proprio al Master durante le lezioni di marketing. Per quanto riguarda la parte di lingua, perché io ho svolto il corso in lingua cinese, ci sono delle frasi proprio commerciali che io utilizzo con i clienti cinesi. È stato per me fondamentale fare questo Master. È un Master che ti specializza, nel mio caso nel marketing, anche nel contatto con i clienti, nel porti in un certo modo con i clienti e ti prepara per il mondo lavorativo.